Buonasera, sono Alessandro Versolatto. Questa sera ho parlato di risparmio sostenibile. L'obiettivo del mio intervento è stato quello di puntualizzare sul fatto che l'utilizzo di strumenti finanziari caratterizzati da fattori di sostenibilità permettono di ottenere due risultati fondamentali. Il primo è quello che offrono una maggiore tutela al nostro patrimonio è il secondo di gran lunga più importante che producono cambiamenti positivi per noi e per le generazioni future.